Entriamo nella settimana santa, la più importante di quest'anno liturgico. Abbiamo modo così di contemplare, di meditare, di pensare questi ultimi giorni che accompagnano la vita di Gesù. Gesù decide finalmente di mostrarsi in pubblico e lo fa salendo al groppo di un asinello. Ecco che quando entra in Gerusalemme, in questa terra a lui tanto cara, che lo aspetterà poi per metterlo in croce. Lui viene acclamato, viene fatto festa, viene accolto da una folla di persone che gridano Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Una folla numerosissima che stendeva i propri mantelli sulla strada, mentre altra gente tagliava pezzi dagli alberi di olivi e stendevano sulla strada. Dovete sapere che il mantello era un indimento molto importante per le persone. Stava ad indicare la propria dignità, era la coperta della notte. Mettere il proprio mantello sotto i gioccoli di un'asina era un segno di onorare e anche di sottomissione. Anche l'uso della cerimonia dei rami, cioè le palme di olivo, stava a significare una festa di purificazione del Tempio ai tempi dei Maccabèi. Allora questa folla acclamava Gesù Cristo, il loro re. Una folla però attenzione che si aspettava da questo re che venisse a donare loro la salvezza come la intendevano con i loro pensieri. Che Gesù toglieva loro le oppressioni, la schiavitù e che donasse anche, perché no, soprattutto il bisogno materiale. Vedevano in Gesù questo, vedevano e volevano questo. Ma Gesù per loro aveva in riservo una salvezza ben diversa. La salvezza che Gesù portava allora come oggi, nella vita di ciascuno di noi, è la salvezza della vita eterna, dell'incontro col Padre, che nasce attraverso l'apertura del cuore, il sapere andare oltre, al di là dei nostri pensieri, del nostro egoismo, quello che ogni giorno amiamo progettare, tenere sotto controllo. A volte ci scegliamo quelle amicizie di comodo perché appunto ci fanno comodo per scopi nostri. Questo lascia veramente riflettere tanto. Io pensavo in questi giorni proprio alla contrapposizione di come quando Gesù entra in Gerusalemme, queste folle che lo acclamavano, che stendivano i mantelli, contenti, che i loro re che veniva a salvarli, che veniva a portare l'abbondanza, erano pronti a gridare, a festeggiare, per poi lasciarlo solo, solo nel momento del dolore, della croce, della sofferenza, della morte. Se solo vogliamo pensare, io tante volte mi fermo a riflettere quanto dolore ha potuto portare questo Gesù nel proprio cuore, nella propria anima. Pensate, quando riuscitiamo, soprattutto in questo periodo, il calvario di Gesù, contempliamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore Gesù soffre sul monte degli univi, soffre su da sangue nell'olto degli univi. Gesù si trova in una condizione umana, spogliato della sua divinità, e soffre in una maniera veramente indicibile, tremenda. Pensate che dalla paura comincia a trasodare sangue. non ve lo immaginate lì da solo, mentre vuole essere consolato, che prova la paura e comincia a chiamare Pietro, Giovanni, Filippo, Simone. non ci sarà nessuno in quel momento dove lui sta soffrendo atrocemente. Eppure, quei discepoli che erano stati presenti nel momento in cui, tre anni hanno accompagnato l'apostolato di Gesù, hanno visto ciechi recuperare la vista, sordi tornare a sentire, guarigioni, miracoli. L'ultimo l'abbiamo visto domenica scorsa con Lazzaro, che Gesù risuscita un morto. avevano visto di tutto e di più, sapevano che era il figlio di Dio, eppure c'è tra di loro chi l'ha tradito. Quindi Gesù sperimenta il tradimento dell'abbandono da parte di colui che vuole bene. Quanti di noi oggi ci lamentiamo che siamo stati traditi, che il nostro amico non ci chiama più, che quello ci ha fatto, che quello ci ha detto. pensate che anche Gesù ha passato tutto questo, eppure ha continuato ad amare, non ha mai smesso di amarci. I discepoli sapevano che lui era il figlio di Dio, eppure nel momento quando Gesù è salito al Calvario lo hanno lasciato solo, lo hanno abbandonato tutti. tutto andava bene fino a quando Gesù dava loro segni, prodigi, manifestazioni di grandezza. Poi nell'ora del dolore ti ritrovi da solo. Un po' come succede anche alla vita nostra di tutti i giorni. quanti di noi soffochiamo quel grido di dolore come Gesù nell'orto degli olivi. Padre, padre, allontana da me questo calice, non ce la faccio più a sopportare questa sofferenza, questa condizione. Anche Gesù, spogliato della sua natura divina, ha indossato l'abito terreno di ciascuno di noi. Ecco perché io sono innamoratissima di Gesù tanto, perché non c'è un dolore che Gesù non ha patito come essere umano, come noi. Le ha sopportate di tutto. Allora viene da dire non lasciamo anche noi Gesù solo e soprattutto fuori dalla nostra vita. Oggi le chiese sono chiusi, per la prima volta nella storia sarà ricordato negli anni a venire che la Pasqua del 2020 le porte della chiesa erano chiuse. Allora apriamo le porte del cuore e accompagniamo questo Gesù nel suo calvario con le nostre croci, quelle che ci costringono oggi a guardarci dentro attraverso questa quarantena, attraverso questo virus. Dice l'Apostolo il salario del peccato e la morte. Noi moriamo ogni giorno tutte le volte che ci chiudiamo all'amore di Dio, tutte le volte che lasciamo fuori Gesù dalla nostra vita. Allora oggi che siamo chiusi nelle nostre case ritorniamo a Dio. Le chiese sono chiuse, ma non dobbiamo dimenticare che la chiesa è la famiglia. Noi siamo chiese, siamo piccole chiese. Allora spalanchiamo il nostro cuore e mettiamoci a servizio di Dio. Accompagniamolo in questa settimana dolorosa, la più dolorosa per Lui. Uniamo le nostre sofferenze e tutto il dolore che portiamo nel cuore per chi ha perso un figlio, per chi ha perso un padre, per chi ha perso i genitori, per chi ha perso persone care, per chi sta soffrendo, per chi sta in ospedale, per chi è rimasto solo, per chi lotta tra la vita e la morte. Mettiamoci anche noi sotto quella croce. E Gesù dice chi vuole venire dietro di me prenda la sua croce e mi segue. Allora abbiamo il coraggio anche noi di prendere le nostre croce quotidiane e facciamo da Cireneo a Gesù. Non lo lasciamo solo se vogliamo risorgere veramente con Lui. Che sia questa una settimana dove per omaggiare Gesù usiamo un cero nella nostra casa, teniamolo acceso, mettiamo a portata di mano una statua, un qualcosa che ci deve ricordare che è un momento dove bisogna fare silenzio e dobbiamo partire con Gesù se vogliamo risorgere con Lui. Allora forza, coraggio, tutti quanti insieme ce la facciamo, ce la facciamo ad uscire da questa situazione. Prendiamo le nostre croce, ce lo dice Gesù, vuoi salvare la tua vita? Allora perdila per amore mio. Che Dio ci benedica e ci dia la grazia di saper vedere oltre con gli occhi dell'amore che la Madonna veramente possa intercedere per noi, per ciascuno di noi presso il Padre affinché i nostri cuori siano innalzati a vedere le cose di lassù e molto di meno le cose di qua giù. Un bacio a vostra Monica.